L'autorità di sistema portuale dei mari di Reno Meridionale e Ionio ha approvato a seguito di una videoconferenza una variazione all'assestamento di bilancio del 2021, al fine di includere due distinti interventi da operare negli scali di Vibo Valencia e di Crotone. Lo rende noto il presidente Andrea Agostinelli, soddisfatto per l'unanimità dei voti e per i numerosi argomenti discussi riguardanti la strategia dell'ente. Nello specifico sono ora inclusi progetti di fattibilità tecnica ed economica riguardanti il risanamento ed il consolidamento delle banchine portuali del porto di Vibo Valencia. 18 milioni di euro ottenuti tramite i fondi di coesione e sviluppo che serviranno a mettere in sicurezza le banchine, ripristinando la piena operatività portuale. Discusso il progetto di riconversione e sostenibilità ambientale dell'area retroportuale gioiese, ma anche l'elettrificazione delle banchine dello scalo. Le aree saranno dunque sottoposte a processi di transizione ecologica e di riqualificazione. Approvato inoltre lo sportello unico amministrativo che dovrà prendere forma entro l'anno e la nuova pianta organica dell'ente. Infine, per il porto di Crotone è prevista la riqualificazione dell'area ex sensi tramite demolizione degli immobili insistenti e la realizzazione di un immobile a più piani. Non sarà variata la destinazione d'uso dell'infrastruttura e si punterà dunque ad assicurare maggiore interazione tra il porto e la città. Hanno preso parte alla seduta i componenti di diritto Antonio Ranieri, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie di Porto, Domenico Berti della città metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi, coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale Faraone. Visti gli argomenti in discussione, altri si partecipato Pino Colloca in rappresentanza del comune di Vimbo.